Non vede Ottavio, non vede Ottavio, il nostro Ottavio buon'uomo che tiene... Come sei elegante, Ottavio buon'uomo! No, è carina, pure sta palla appesa al cappettolo, bella, sai, molto natalizia, molto bella, eh? Perché? Sei straordinario? No, no, sta bene, sto bene, ma mi sento tutto attaccato, non lo so, ma pare un pinguine, guardate. È la taglia, forse, è la taglia, è un abito da sera, perciò, ho capito. Ma pure se ero dal giorno, non mi ruova, ti ho detto, ma non mi dico, sta nocca a casa, sta nocca a casa. Ma quale nocca? C'è il trone, si chiama Farfalla la nocca. C'è il trone, la Farfalla, tu hai detto in capa Farfalla. Non fare gesti, non fare gesti, gesti vulgari. No, perché io lo faccio Andrea, perché ti guarda a farlo. È caduta la palla, è caduta la palla, è caduta la palla, è caduta la palla, è caduta la palla a terra. Salutiamo, ogni tanto può negare i palla. Non fare gesti vulgari, il nostro barman, io le volevo salutare, vieni qua.